16 settembre 2020 La sapienza dei figli di Dio Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 7 In quel tempo il Signore disse A chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto È venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite è indemoniato È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite Ecco un mangione, un beone, un amico di pubblicani e di peccatori Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli I figli di Dio hanno una sapienza che il mondo non conosce Essa è data da Dio e nessuno la può ottenere con il proprio sforzo con lo studio o con l'esperienza La sapienza di cui parla Gesù è un dono che viene dallo Spirito Santo e comunica cose che non sono sulla terra Le ragioni di Dio Il perché profondo delle cose Di tutto questo la sapienza ci rende edotti ci fa sapere del pensiero stesso di Dio e per questo ci spinge ad agire in modo tale che il mondo non comprende ed in genere odia perché è contrario in modo profondo alla stoltezza che guida le cose del mondo La stoltezza si contrappone alla sapienza è la via distorta del peccato che procura tenebre sulle cose spirituali L'anima sente l'incongruenza ma non può porre rimedio Chi soffre per questo vedendo che il senso della vita e delle cose contraddice le esigenze più vere e segrete anche quando ottiene le soddisfazioni della vita materiale cerca qualcos'altro Chi invece si ostina sulle vie non buone odia la sapienza perché sente interiormente che rivela le illusioni e lo rimprovera Posso cercare il profitto personale avere e soddisfare ogni voglia fare della vita una rampa per essere da più degli altri ma so che sono in contraddizione con me stesso L'anima di ogni uomo cerca il Dio che l'ha creato e sa geme se sostituito da ogni idolo che l'ego umano cerca di servire per servire se stesso Chi non ascolta quel grido e lo contraddice diventa aggressivo contro tutto e tutti coloro che glielo ricordano anche da lontano Chi rifiuta il bene e la verità diventa nemico del bene e del vero e si accanisce contro chi lo cerca I figli di Dio dunque sono quelli che cercano la sapienza e da loro essa si fa trovare sta alla loro porta e si dona senza bisogno di sforzo per ottenerla La sapienza della rivelazione di Dio cioè quello che Dio dice e come lo rivela è riconoscibile da chi possiede lo Spirito di Dio da chi lo cerca con un cuore sincero Così chi cerca Dio nel cuore che attende la sua giustizia non si ferma a quella umana chi cerca la verità e non quella contrabbandata da sistemi umani di pensiero e di prassi imposti con ogni mezzo di persuasione a coercezione quando ascolta la parola di Dio quando incontra veramente Gesù il suo inviato allora riconosce la verità sente che il cuore è attratto vuole conoscere di più si informa cerca ancora perché un lampo nella notte ha fatto riconoscere la luce ma non basta ancora l'anima cerca la luce intera non si sazia finché non l'ha trovata e non la possiede tutta la sapienza divina faceva riconoscere in Giovanni il battezzatore il precursore della luce vera che veniva nel mondo i suoi discepoli potevano capire quel lampo nella notte della profezia di Israele che finalmente riduceva per dire ecco i tempi si sono compiuti viene la luce vera la luce del mondo il grido di Giovanni veniva accolto perché chi cerca Dio sa che sta per avvenire un incontro e bisogna essere preparati cambiare la propria vita essere resi degni da Dio con la consegna di ciò che siamo con la buona volontà di vivere secondo i suoi comandamenti così la penitenza era conseguenza della sapienza e quando il Cristo finalmente si disvelava e si offriva alla gente con la parola piena con i miracoli cercando i lontani coloro che erano perduti la sapienza la sapienza rivelava la sua misericordia i fatti letti con tale spirito diventano chiari e spingevano all'adesione a Dio seguendo la sua parola la sapienza infatti possiede l'amore che attrae e dona l'amore che segue non c'è sapienza vera che non spinga alle opere all'agire conformemente allo spirito ogni altra sapienza senza tale azione è falsa sapienza noi siamo dunque figli di Dio perché riconosciamo e seguiamo Gesù il Cristo di Dio perché l'anima ha trovato il bene che cercava e più non lo lascia leggiamo i tempi del Signore con la sua sapienza non sentiamo la spinta a cambiare vita? non vediamo la falsa strada del mondo che conduce verso il baratro? certamente fidiamoci allora della sapienza dello spirito e compiamo le opere giuste anche se contro il mondo Dio vi benedica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti